E yo, questo è Sergio Di Pasquale a.k.a. Serge, a.k.a. New Era, a.k.a. Il Barbarian Italiano. Sono pronto a fare la mia sessione di trazioni del lunedì, ma prima voglio portarvi un annuncio importantissimo che non vedevo l'ora di farvi. Finalmente, le t-shirts e i tank tops, magliette e canotte del Team Nuera sono pronte all'acquisto. Con 5 design inediti, la collezione d'abbigliamento Team Nuera continua ad arricchirsi. Voglio assolutamente dirvi fin da subito che si tratta di un'altra edizione super limitata. Le prevendite saranno aperte da adesso per poco più di due settimane, fino al 2 di giugno. Sono in collaborazione con lo stesso ragazzo che mi ha aiutato questo inverno con le felpe. Però sta lanciando questa nuova piattaforma da cui proporre i suoi design superlativa e il sito è ancora in lavorazione. Ecco perché per adesso potete effettuare gli acquisti attraverso le pagine ufficiali del sito che verrà creato a breve. Se volete supportare e rappresentare il Team Nuera, il capitolo italiano dei Barbarians, il team di chi non si ferma nonostante qualsiasi ostacolo, il team di chi mostra grandezza su richiesta a prescindere dalla situazione. Tutto quello che dovete fare è andare sul profilo Instagram di Superlativa o sulla pagina Facebook di Superlativa, mandare un messaggio privato indicando semplicemente il design che vi interessa e la misura di cui avete bisogno, in men che non si dica, gli articoli che avete scelto saranno a casa vostra e pronti per essere indossati. Per quanto riguarda i design, adesso avete davvero l'imbarazzo della scelta. Che sia il logo classico su una t-shirt color bordeaux, gli stili dorati o argentati o addirittura quello arancio fluo, si tratterà di articoli di qualità top, una cosa a cui tenevamo veramente tanto. Ci sono delle novità veramente succulenti a questo giro. Siamo riusciti a offrirvi la spedizione gratuita in tutta Italia. E la cosa ancora più speciale è che con ogni singolo articolo aggiuntivo acquistato riceverete uno sconto progressivo sempre più grande sul totale. Questo vuol dire che se acquistate una maglietta e una canotta, la seconda sarà parzialmente scontata. Se arrivate ad acquistare quattro articoli, uno sarà totalmente in regalo. E se arrivate invece a prenderne sei, due saranno interamente gratuiti. Io vi dico di approfittarne e sto già aspettando i modelli per ogni singolo design che c'è a disposizione. Non vedo l'ora di averli, ma soprattutto poterli indossare durante i miei allenamenti. Non vedo l'ora poi di vedere i vostri post, i vostri video, le vostre storie in cui magari vi sparate una serie di piegamenti o di trazione o di muscle ups e il logo Team Nuera è in bella vista. Continuo ad essere infinitamente grato per chi abbia supportato il Team Nuera acquistando le felpe quest'inverno e non ci sono parole per dirvi quanto apprezzerei il vostro continuato supporto attraverso l'acquisto di questa collezione estiva. Vi ringrazio già da adesso per come mi aiutate anche indossando questo stemma e mostrandolo in giro a diffondere la mentalità, la filosofia di allenamento e di vita del Team Nuera e dei Barbarians. Let's go!